una manifestazione meravigliosa di cui ho sentito molto parlare io conosco molto l'abruzzo bene perché perché i miei figli in parte sono abruzzesi così sandrocchia come amava definirla federico fellini al palio delle pupe di cappelle sul tavo si avete capito bene perché c'era un legame speciale tra sandra milo scomparsa ieri all'età di 90 anni alla nostra regione sandra milo icona storica del cinema italiano che ha frequentato a lungo lavorando con i principali registi dallo stesso fellini a risi da salvatore sa ammucino e tanti altri l'attrice aveva compiuto 90 anni nel 2023 milo sposò in terze nozze ottavio dell'hollis la cui famiglia era originaria di casale incontrata dalla loro relazione nacquere due figli e ciro e azzurra in quegli anni l'attrice trascorreva le vacanze sia nella villa di casale incontrata che a francavilla al mare dove è tornata più volte sandra milo è sempre rimasta molto legata all'abruzzo ed è stata invitata a diversi appuntamenti oggi a casale incontrata non si parla d'altro dei manifesti sono stati affissi per la cittadina per non dimenticare la diva o antidiva ma ascoltiamo alcune testimonianze il titolare dello storico bar angelo spadaccini che ricorda quando sandra milo e la sua famiglia frequentavano il bar e lei era disponibile sempre con tu la mattina passava in piazza faceva colazione insieme a ciro a giurra ogni tanto don ottavio il marito passava con due pastori abruzzesi maremmani che erano grandissimi per noi che a quei tempi eravamo piccoli era questa la vita di casale la vita sociale lei veniva solamente in estate quindi quei 15 giorni 20 giorni e frequentava normalmente la vita sociale di casale era la mano proprio la mano di tutti lo storico fabio de santis ci accompagna davanti alla casa dove trascorrevano le vacanze estive certo questa era la famosa villa dell'hollis con annesso parco e qui diciamo ottavio e sandra milo trascorrevano il periodo delle vacanze pare diverse settimane però oltre a stabilire contatti con la popolazione quindi avere rapporti sociali qui in loco e ovviamente si giravano anche il circondario raggiungendo i centri vicini ori come ad esempio rocca montepiano l'ex sindaco adamo carulli mostra una foto 1970 sandra milo con la famiglia florio alla festa di san rocco a e a 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